Questo è il laboratorio interdisciplinare diritti e regole, quindi l'ambito di ricerca è piuttosto vasto? Vasto, il campo di partenza è sempre quello del diritto, con un'apertura internazionale, con la comparazione. L'attenzione è al gioco fra diritti e regole, ricorderà sicuramente l'antico Nedi Sofocle, in cui il diritto, la regolazione imponeva di non seppellire i fratelli morti in battaglia contro la città, ma diritti più ampi e più forti spingono ad andare oltre le regole antigone. In questo continuo gioco è un po' il light motive del laboratorio, con tutti gli altri strumenti che ha. Un buon giurista, insomma, fa molta ricerca. Un buon giurista, per essere un buon giurista, deve fare ricerca. Il buon giurista che non fa ricerca, il giorno dopo, è già obsoleto. E come si fa ricerca in questo campo? Beh, fare ricerca sul diritto non è solamente la ricerca tradizionale, che per carità ha tutte le carte in regola. Significa riuscire a sapere utilizzare le nuove tecnologie, anche per quanto riguarda le banche dati. Significa riuscire a andare sul campo, sul territorio, a fare ricerca sulle sentenze, e con la giurisprudenza, con la realtà in qualche modo che poi genera il diritto vivente. In questo laboratorio in particolare cosa avete prodotto, cosa state realizzando? Beh, i prodotti sono tanti, sono in continua evoluzione. Forse un esempio per tutti che dà un po' il segno di quanto si possa cambiare con la ricerca e l'osservatorio permanente sul danno alla persona, che con l'analisi giurisprudenziale, che coinvolge appunto in modo interdisciplinare giuristi, economisti, medici, informatici, assicuratori, esperti di varie branche, dalla psicologia alla psichiatria, teniamo monitorato l'andamento del contenzioso, delle liquidazioni del danno sul territorio nazionale, assieme all'autorità di vigilanza. E da lì chiaramente gli orientamenti giurisprudenziali vengono in qualche modo orientati. Questo forse è l'esempio più banale, ma che sulla pelle di tutti i cittadini viene vissuto ogni giorno. Immagino che chi lavora qui debba avere per forza molta flessibilità, molto interesse, molta curiosità. Tanta curiosità, tanta motivazione, per quello che non abbiamo orari. Molte ricerche su vari territori sono nate dall'ospito di iniziativa di singoli giovani ricercatori e ricercatrici. Un esempio? Tutte le tematiche sul diritto della famiglia, tanto per fare un esempio, e tutte le attuazioni sono sicuramente uno di questi esempi. Dall'inventiva di alcuni studenti, alcuni allievi non di diritto, si sono avviati lo sviluppo di una serie di software. E ora abbiamo aperto anche a New York un nuovo laboratorio sul diritto logica e nuove tecnologie. Professore, alla fine quindi si può dire che serve davvero un laboratorio del diritto? Beh, direi di sì. Un laboratorio del diritto serve a orientare in che direzione andrà il mondo. Cioè non si muove da solo. Tutto quello che facciamo in qualche modo è regolato e ruota attorno al mondo del diritto. Consapevolezza che il diritto è in grado di guidare le direzioni in cui ci muoviamo diventa fondamentale. E per fare questo bisogna fare ricerca. La strutturazione all'interno di un laboratorio permette di utilizzare con rigore metodologico tutti gli strumenti utili, necessari e indispensabili proprio per governare in qualche modo in che direzione vanno le società, in che direzione va il mondo.